Nelle aule dell'Istituto Segato di Belluno, i giovani studenti dell'ITS Meccatronico hanno avuto l'opportunità di incontrare i rappresentanti di 10 aziende del territorio, con lo scopo di condividere progetti e collaborazioni per il proprio futuro lavorativo. L'iniziativa ha consentito ai ragazzi e ai professionisti di conoscersi in preparazione ai momenti di alternanza a scuola-lavoro previsti dal corso di studi. L'ITS Meccatronico punta infatti a unire teoria e pratica, un obiettivo che vede come primo passo, un colloquio tra le parti che possa favorire la nascita di un rapporto lavorativo concreto. Le figure tecniche sono sempre più difficili da reperire sul mercato del lavoro al giorno d'oggi, quindi sia per i t-meccanici ma anche persone che hanno la voglia di studiare qualche anno in più, affrontando questo percorso ITS, sono super richieste in azienda perché hanno una formazione più professionale e venendo affiancati dall'azienda durante questo percorso hanno una maggior competenza. La formula di fare alcuni giorni a scuola e alcuni giorni in azienda, lo abbiamo constatato direttamente, ha dato dei frutti interessanti e soprattutto il percorso di studi è molto vicino alla realtà aziendale. Con loro poi si fa anche una verifica del percorso, quindi non si aspetta la fine per capire se è andata bene o è andata male e c'è curiosità sicuramente. Coordinati dal professor Michele Zancanaro, gli studenti sembrano avere le idee chiare e sono concordi sul fatto che mattinate come questa siano fondamentali per favorire l'orientamento nel mondo del lavoro. Secondo me è una cosa che aiuta molto nel nostro futuro e anche per imparare cose aggiuntive rispetto a quello che ho imparato nei cinque anni di superiori. Dà delle opportunità in modo molto ampio all'interno del mondo del lavoro e sicuramente è un'esperienza che può aggiungere conoscenza al mio bagaglio anche se magari non sarà per forza il lavoro della mia vita.